L'Avezzano deve mettersi alle spalle il periodo negativo e ritrovare una vittoria che manca da quasi un mese. L'arrivo di mister Pagliarini a sostituire il dimissionario Ferazzoli non ha prodotto effetti nella prima uscita. Il pesante 3-0 di Roma ha fatto scivolare i marsigani fuori dalla zona play-off. Per cambiare marcia, al Dei Marsi c'è lo scontro diretto contro la Vigor Senigallia. Formazione in un buon momento, al quarto posto in classifica, due punti dei biancoverdi. Tutti a disposizione, eccezione fatta per Damceschi e Tuncara per Pagliarini, che dunque sceglie il 4-3-3 con l'11 migliore possibile. Davanti Senesi e De Silvestro a supportare Capitano Roberti. Qualche problema in più per mister Clementi, che deve rinunciare a Mori, Serfilippi e Bartolini per infortunio, e a Gambini per squalifica. Recuperati Denis Pesaresi e Romizzi. Tomba invece va in panchina, dirige Federico Bruschi di Ferrara. L'Avezzano parte con il piede giusto, De Silvestro recupera palla sulla tre quarti e serve l'inserimento con i tempi giusti di Verna, che in diagonale non perdona. La Vigor vuole rispondere immediatamente, con una serie di tentativi deboli e poco precisi nei primi dieci minuti. Il numero 7 Kerriota sembra comunque il più ispirato tra i marchigiani. Episodio da Moviola al 14esimo, quando Senesi cade all'interno dell'area di rigore. Il direttore di gara ravvisa la simulazione del numero 10, che seppur contrariato deve accettare l'ammunizione. Al 23esimo la Vigor Senigallia trova il pareggio, con una bellissima trama sviluppata sulla destra. Romizzi trova Rimorchio Schaeffer, che da due passi batte Cultraro. Dubbio di iniziazione con Pesaresi, che sembra aver controllato la sfera con il braccio. I biancoverdi comunque non si abbattono e si gettano alla ricerca del nuovo vantaggio. Su un calcio di punizione di De Silvestro, Mascella salta in anticipo. Roberto è miracoloso, il tapin di Filippini è inutile per la posizione di offside. Ancora Vezzano alla mezz'ora, attacco elegante di Roberti a trovare Verna, che calcia centrale. Roberto respinge come può. Prima dell'intervallo da segnalare l'espulsione di mister Pagliarini per proteste. Duplice fisco che porta con sé una coda polemica. Con le immagini di mano il centurame passiamo alla ripresa. Al quinto De Silvestro propone un cross molto insidioso, ma Verna e Roberti non trovano la deviazione vincente. Migliore l'approccio biancoverde, ma le occasioni da rete latitano. Al quarto d'ora Baldini prova a lanciare un segnale ai suoi, con un tentativo dalla lunga distanza, che si spegne oltre la traversa. A metà ripresa i rosso-blu sembrano sfoggiare una condizione fisica migliore, ma l'Avezzano prova ad essere ugualmente pericoloso nelle ripartenze. Un esempio è il minuto 28. Prima che Riota ci prova dalla distanza, senza creare troppi problemi a Cultraro, e sul ribaltamento di fronte l'occasione è marsicana. Cross arretrato di Mascella, cercare Bolo, che trova la potenza giusta, ma Roberto blocca. Al trentacinquesimo, ecco la svolta. Cavalcata di Bolo sulla sinistra, che mette al centro dell'area di rigore, coperta perfettamente da Ortolini e De Silvestro. Il numero 20 ci prova due volte, e in sacca regalando un vantaggio importantissimo ai suoi. Un gol e un assist per Elio De Silvestro, che si conferma uno degli elementi da accendere e sfruttare nelle difficoltà. Nel finale, l'Avezzano chiude la pratica prima degli assalti finali marchigiani. La punizione di Filippini genera un corner sugli sviluppi del quale Ortolini trova una vera e propria perla, riuscendo a girare con la testa il pallone verso l'angolino, dove Roberto non può arrivare. Dopo cinque minuti di recupero, il De Marsi torna a far festa. Sorpasso su Vigor Senigallia e Roma City riuscito. Quarto posto conquistato.